Presentato in conferenza stampa a Palazzo del Pegaso, il 21esimo raduno nazionale dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, che si svolgerà a Pisa il 23 e 24 settembre, intorno al raduno un fitto calendario di eventi, che a partire già dal 17 settembre darà vita alla settimana del mare, mostre, cerimonie, conferenze, attività per studenti per arrivare alle giornate clou, col concerto della banda musicale della Marina Militare, sabato 23 al Teatro Verdi e con l'emozionante defilamento sull'Ungarni di migliaia di marinai d'Italia, che chiuderà le celebrazioni la mattina di domenica 24 settembre. Questo è un evento importante, un evento che non riguarda solo Pisa, non riguarda solo la costa, ma la Toscana tutta è orgogliosa di ospitare questo momento, il raduno nazionale dei marinai d'Italia. Sarà una settimana lunga, densa di impegni, densa di appuntamenti, il clou sarà il 23 e il 24 settembre e noi vogliamo dimostrare di essere quella terra accogliente che siamo. Pisa è stata sempre una città che è cresciuta guardando al mare e non è un caso che ancora oggi, nel simbolo della nostra Marina Militare, ci sia la Croce Pisana. Ed è bello poter ospitare questo momento e dire grazie alle donne e agli uomini della Marina che svolgono un lavoro fondamentale per la nostra città, per la nostra regione, per il nostro Paese. Noi a differenza delle altre associazioni il raduno lo facciamo ogni quattro anni, ma c'è un motivo perché in realtà non dura solo un fine settimana, ma è un periodo molto più lungo che noi dedichiamo a parlare di malittimità, soprattutto rivolta ai giovani. Ci sono molte attività, molte conferenze e presentazioni presso le scuole e questo è importante. È importante che venga capito a tutti i livelli, dai più giovani ai più anziani, il ruolo del mare e chi, meglio dei marinai, hanno questa possibilità. Loro vivono e lavorano sul mare e capiscono e possono essere il tramite giusto per parlare del mare e della sua importanza. Intanto mi preme sottolineare l'importanza di assetti pregiati della Forza Armata. La Marina Militare ci è stata sempre molto vicino. Tanto è vero che sabato noi abbiamo il concerto della banda della Marina Militare che verrà fatta a Teatro Verdi. Il giorno dopo è il clou per quanto riguarda l'associazione, perché si parla di defilamento. Migliaia di marinai defileranno sul Lungarno. E speriamo di riuscire veramente a trasmettere quell'entusiasmo, quella passione che ci caratterizzano. I marinai sono un grande equipaggio dove nessuno viene lasciato indietro e si è compatti sia nel bene che nel male. E vogliamo trasmettere questo, che deve essere un messaggio non solo a Pisa, la Toscana, ma a tutta l'Italia. Credere in quello che si fa. Noi abbiamo fatto un programma molto intenso, c'è una serie di conferenze che si svolgeranno anche al Museo delle Navi Antiche, che è presso gli arsenali repubblicani. Abbiamo altre attività, poi soprattutto mirate anche agli studenti. Abbiamo fatto un concorso di pittura per le scuole primarie e un concorso fotografico. Quello per le scuole primarie praticamente riguardava Pisa e il mare. Come premio abbiamo messo, oltre alla solida i premi che si possono dare anche ai ragazzi, un'attività a mare che faremo a Marina di Pisa il mercoledì con un'esercitazione di soccorso che vedrà cani, l'impiego dei cani con la Croce Rossa, i Vigili del Fuoco e la Guardia Costiera che in quell'occasione metterà un elicottero con il soccorretore per fare questa attività. Dunque, nella nostra tradizione c'è che il numero dedicato al raduno nazionale, in questo caso sarà ottobre 2023, è un numero speciale. Quindi dedichiamo 80 pagine all'evento di Pisa in virtù di quelle che sono tutte quante le manifestazioni che si dipannano lungo la settimana del mare a cui il Presidente nazionale vi ha accenato in precedenza. Quindi diciamo, certo, l'evento clou è quello del defilamento di queste 5.000 persone tra marinai ma anche familiari davanti al palco delle autorità, però daremo spazio ovviamente a tutte quelle che sono le varie iniziative che, ripeto, durante domenica 17 e fino a domenica 24 si svolgeranno in quel di Pisa. Presentata in Palazzo del Pegaso, la prima edizione di Montepulciano Città del Libro Antico e Raro, che si terrà nell'omonimo borgo il 23 e 24 settembre. Una manifestazione che vedrà un'esposizione di 100 libri e stampe antiche e rare presso la Fortezza Poliziana, oltre a dibattiti e presentazioni che animeranno il Centro Storico di Montepulciano in un ricco calendario di appuntamenti rivolti ad appassionati o a semplici curiosi del Libro Antico. Tutte le iniziative avranno una nota molto particolare, oltre a studiosi e docenti italiani e stranieri prenderanno la parola e illustreranno le loro ricerche una ventina di studenti di liceo coinvolti nei mesi scorsi nel progetto al fine di rafforzare il legame culturale che deve unire le generazioni. È una bellissima prima volta questa della rassegna Montepulciano dedicata al Libro Antico e Raro. Può sembrare una cosa di nicchia che interessa solo agli addetti ai lavori o a pochi appassionati, ma in realtà questa è una rassegna ambiziosa che vuole coinvolgere studenti, studiosi che aspira a usare questo oggetto affascinante che è un libro antico, del quale noi a volte proprio per aver usato così tanti libri non cogliamo il valore esotico in tempi di comunicazione telematica, di uso del web, di smaterializzazione anche della lettura e del sapere, ma invece per tanti giovani il libro può diventare un oggetto esotico, di culto, un oggetto da collezione. Credo che sia un'ottima occasione questa che Montepulciano sta accogliendo di promuovere attraverso l'oggetto libro la cultura della nostra storia e poi anche la cultura in generale, un rapporto con il sapere, con la lettura, che assume anche una veste appunto, quella di rapporto con gli oggetti, di collezionismo degli oggetti. Auguro tutto il meglio a questa iniziativa e come Consiglio regionale la sosteniamo e la promuoveremo come potremo. Il 23-24 settembre a Montepulciano si svolgerà la prima edizione di questa manifestazione, evento culturale, Montepulciano, città del libro antico e raro, organizzata dalla Società Bibliografica Toscana insieme alla Società Storica Poliziana e la Proloco Locale insieme in collaborazione con altre istituzioni e licei poliziani. vedrà un'esposizione di circa 100 libri e stampe antiche, ma anche tanti convegni, salotti letterari con personalità della cultura e la collaborazione anche dei licei poliziani. Appunto una ventina di studenti potranno illustrare le ricerche che hanno fatto nel corso di questi mesi precedenti a questa prima edizione. È sicuramente un evento culturale che arricchisce la nostra offerta culturale che si aggiunge a tanti altri eventi di importanza notevole, ma anche dà un certo prestigio alla nostra città. Quindi il nostro obiettivo è sicuramente quello di andare a rispondere a quelle che sono le esigenze dei nostri cittadini residenti, ma anche di andare nella direzione di attrarre a Montepulciano un turismo più consapevole, sostenibile, legato praticamente ad eventi culturali che si svolgono proprio nel nostro territorio. L'obiettivo principale per un settantenne come me è quello di coinvolgere i giovani dei licei e come voi vedrete si comincia martedì 19 settembre con un incontro da avvocato in pensione potrei definirlo prodromico della due giorni del fine settimana proprio ai licei di Montepulciano. Grazie a questa collaborata, consolidata attività tra l'amministrazione comunale e i licei di Montepulciano non dimentichiamo che a Montepulciano c'è liceo classico, scientifico, linguistico quello che una volta era chiamato magistrale e ora scienza umana, insomma io sono rimasto un po' indietro ma insomma c'è. Ecco, quest'anno la mostra è stata organizzata insieme a loro i cataloghi sono stati redatti, compilati, studiati insieme ad un gruppo nutrito di studentesse e di studenti dei licei ovviamente guidati da un gruppetto di professori molto qualificati. Il risultato secondo me è semplicemente ottimo perdonerete il superlativo e non ho con me i cataloghi perché sono in stampa ma questo è un motivo in più per voi per venire a Montepulciano il 23, il 24 prossimo vi faremo ben volentieri omaggio di questi cataloghi e sentirete parlare anche questi ragazzi e queste ragazze perché nei vari salotti letterari che spiegano le sezioni delle mostre loro parlano, non solo i cattedratici, non solo gli esperti non solo i collezionisti come sono io ma loro, questi ragazzi che il prossimo anno andranno all'università quindi la nostra è stata un'operazione sul futuro una semina nella speranza che continuino ad esserci studiosi di scienze umanistiche che proseguano questa tradizione che è tipicamente toscana e oserei dire all'interno della Toscana tipicamente fiorentina che è partita alla fine del 400 e che io spero sopravviva per altri 500 anni quindi dall'alto dei cieli tutti avremo modo di constatare questo progresso La manifestazione assume un'importanza grande legata non solo al pregio che la manifestazione del libro raro e antico rappresenta ma anche al messaggio che può dare perché oltre ai vari salotti letterari c'è un fattore legato anche all'inclusione sono stati coinvolti anche alcuni studenti dei licei poliziani che da mesi lavorano anche a questa iniziativa proprio per coinvolgere più generazioni ad un tema che magari potrebbe essere legato prevalentemente ad appassionati o ad una nicchia di persone che sono appunto appassionate del libro antico e raro una serie di eventi di salotti letterari che trattano anche temi attuali ecco interessante sicuramente quello che mi ha colpito moltissimo sarà quello delle donne stampatrici del 500 donne proprietarie delle loro stamperie ecco ogni manifestazione legata ai libri racconta, lascia una testimonianza che ci fa scoprire nuove cose nuove particolarità legate al settore che magari passerebbero altrimenti in secondo piano quindi ecco un'iniziativa sicuramente degna di nota in un contesto anche paesaggistico bello ed importante Noi siamo molto contenti di aver stipulato una convenzione con la dirigenza dei licei poliziani proprio perché il coinvolgimento dei giovani è stato fondamentale ed è fondamentale Noi come diciamo sempre facciamo le nostre iniziative culturali innanzitutto per i nostri concittadini per la nostra comunità in primo luogo ovviamente per i giovani e l'aver avuto l'occasione di far partecipare i giovani all'organizzazione e allo studio anche contenutistico della mostra e dei vari salotti letterari che sono abbinati alla mostra per noi è stato veramente un punto di principio ma non soltanto è il valore aggiunto secondo me a questa iniziativa e chiaramente non soltanto per i giovani ma un po' per tutti quanti coloro che amano questo genere di oggetto che innanzitutto viene diciamo ammirato proprio come oggetto perché il libro antico è un'opera d'arte intanto oltre che poi avere chiaramente un contenuto particolare presentato in sala gonfalone di Palazzo del Pegaso il libro intitolato Capoliveri in giallo in paese tutti sanno scritto dagli studenti della classe terza A della scuola secondaria di Capoliveri con la supervisione della professoressa Elena Maestrini questo volume ha uno scopo benefico poiché i proventi ottenuti sotto forma di contributo volontario saranno devoluti all'associazione i sogni di Anna durante la presentazione i ragazzi stessi hanno letto alcuni brani del libro accompagnandoli con una componente musicale alla fine della cerimonia sono stati consegnati agli studenti una copia della Costituzione e dello Statuto regionale un gesto simbolico per promuoverne la conoscenza tra i giovani oggi si presenta in Regione Toscana un libro fantastico scritto dai ragazzi delle scuole medie dell'istituto comprensivo di Portoazzurro il plesso di Capoliveri ragazzi che si sono uniti e hanno lavorato a un progetto per i tre anni delle scuole medie su un giallo che ha il titolo in paese tutti sanno e che raccoglie quelle esperienze quei personaggi dal barista al farmacista il poeta tutti quei personaggi che si trovano nei piccoli paesi della nostra bellissima Toscana e qui vengono raccontati da questi ragazzi con una grande forza letteraria ma anche con un'armonia e una predisposizione a far capire anche quello che all'interno di questo paese al di là dei personaggi si vive quindi si respira proprio all'interno di questo libro anche l'aria di un tramonto caldo piuttosto che l'esperienza che si può vivere con le miniere di Calamita a Capoliveri e poi chiaramente tutto viene portato anche nell'ambito turistico cioè un paese che vive a due velocità quella estiva turistica dove ci sono tantissime persone e poi quella velocità un po' più lenta un po' più malinconica dell'inverno e proprio in questo libro scritto da questi ragazzi questo lo si vive a pieno e poi c'è il giallo che è il motore che porta questa questa armonia appunto fino ad arrivare quasi come in tutti i gialli ad una soluzione che sembrava quella ma per colpa di un pettegolezzo in realtà l'investigatrice probabilmente andava su una strada sbagliata e quindi poi alla fine il risultato finale il colpevole sarà un altro quindi ci sono tutti gli elementi e tutti gli ingredienti giusti perché questo libro merita successo è già in pubblicazione e sta avendo e riscontrando veramente un grande successo anche al di là di Capoliveri e dell'Isola d'Elba e quindi siamo molto felici che ci siano ragazzi così in gamba che inizino grazie anche alla scuola alla professoressa Elena Maestrini che ha seguito il progetto questo tipo di iniziativa è semplicemente meravigliosa allora questo progetto è nato perché ho una classe eccezionale che sin dalla prima si sono rivelati molto molto creativi quindi tutta questa creatività doveva prodare a qualcosa e arrivati in terza siamo arrivati a questo libro attraverso l'osservazione del nostro territorio noi siamo in una piccola isola veniamo dal lontano west della regione però anche noi abbiamo le nostre bellezze le nostre storie da raccontare i ragazzi sono molto curiosi quindi hanno iniziato ad andare nelle botteghe dei tipiche del paese e hanno iniziato a creare dei personaggi un po' ispirati a quelli reali e un po' no poi abbiamo letto abbiamo curato il genere già alla scuola e quindi sono venuti fuori sono venuti fuori delle storie e ambientati a Capoliveri con lo schema classico la struttura classica del genere e abbiamo lavorato è stata una una scrittura a 40 mani loro sono 20 40 e mezzo la mia insomma di supervisione e è venuto fuori questo questo libro questo giallo con tutti gli incastri abbastanza riusciti e poi è stato anche molto ben apprezzato nella nostra piccola realtà e poi grazie al consigliere Marco Landi abbiamo avuto l'onore di poter venire qui in regione a Firenze in questa città che non è una città come tutte le altre ma è Firenze è il ritorno alle origini è la lingua madre per noi quindi è veramente una grande soddisfazione sono divertita è stata un'esperienza molto divertente che ci ha unito molto di più di quanto noi già lo fossimo noi a scuola abbiamo letto i libri gialli Dieci piccoli indiani di Agatha Christie e Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle e ci siamo appassionati molto a questo genere diciamo abbiamo cominciato molto ad immedesimarci nei personaggi e nelle ambientazioni ci ha unito molto noi eravamo già molto uniti come classe però comunque esperienze di questo genere servono molto ad unire ancora di più i ragazzi e noi ci vogliamo un gran bene quindi è riuscito anche grazie a questa nostra unione secondo me a questo progetto ci siamo ispirati tutti a molti personaggi magari abici di famiglia o familiari tipici del paese quindi secondo me sono tutte storie che hanno l'essenza di Capoliveri nel loro modo diciamo perché raccontano la vera nostra esperienza che abbiamo con il paese e soprattutto quella delle persone che l'hanno vissuto prima di noi grazie a tutti Grazie a tutti